È luglio e questo mese ti presentiamo il melograno. Il melograno si distingue tra melograno da fiore e melograno da frutto. Il frutto di quest'ultimo è di colore rosso-vermiglio ed è chiamato anche frutto degli dèi. Fin dell'antichità è anche conosciuto per le proprietà benefiche dei suoi succosi chicchi rossi, simbolo di fertilità, ricchezza e potere. Vuoi sapere come coltivarla? Scriviti per ricevere la scheda di coltivazione e conoscere le prossime piante del mese.